Ed eccoci insieme a un nuovo appuntamento di Parliamone Con. Il 30 novembre è una data importante per il popolo del centro-sinistra, test importante quello delle primarie, appunto il centro-sinistra schiera degli elementi importanti. Tra questi l'assessore alle politiche giovanili, trasparenza e legalità, l'assessore Guglielmo Minervini, appunto candidato alle primarie per il centro-sinistra. Benvenuto, assessore. Grazie dell'invito. Entriamo subito nel merito. Innanzitutto che sfida sarà? Che caratteristiche, al di là di chi sarà, ovviamente lo vedremo dopo l'esito delle primarie, che caratteristiche dovrà avere il nuovo presidente della Regione Puglia? Io penso che debba essere soprattutto un presidente a tempo pieno in modo dedicato ai problemi della Puglia, perché stiamo attraversando una fase decisiva. E' il punto più acuto della crisi. I prossimi anni saranno fondamentali per capire se ce la facciamo oppure no. E per questo io penso che sia importante avere una figura di presidente che non abbia altre faccende che non siano la Puglia e i pugliesi. E per questo mi candido, diciamo, ad avere una sorta di attenzione esclusiva alle sfide che ci stanno dinanzi. E le sfide che ci stanno dinanzi, secondo me, sono fondamentalmente due. Il tema dello sviluppo e il tema del lavoro. Cioè, come ne usciamo da questa fase di crisi? Come la Puglia ne esce? Come ci tiriamo fuori da questo pantano? Cosa possiamo fare per irrobustire la nostra capacità produttiva? E come da tutto questo traiamo opportunità di lavoro, soprattutto per quel 53% di giovani che oggi non vedono un orizzonte di futuro dinanzi a sé? E' su questo che ci giochiamo la partita ed è su questo che io sto provando a dire delle cose che si possono fare nei prossimi cinque anni. Lei ha detto che la Puglia è cambiata perché i pugliesi sono cambiati. In che senso? Io penso che in questi dieci anni abbiamo avvertito la possibilità di dirci con maggiore fierezza, con maggiore orgoglio, pugliesi. Mentre dieci anni fa lo dicevamo quasi con un senso di soggezione, in qualche caso anche con un senso di vergogna. Oggi invece lo diciamo a testa alta. Abbiamo un senso appunto di fierezza. E' come se di Puglia si parla bene in tutta Italia e questa cosa ci fa piacere. Ovviamente tutto questo si traduce in termini di responsabilità. E' come se per la prima volta avvertiamo su di noi la responsabilità di farcela. Quello che potrà accadere nei prossimi cinque anni in Puglia non dipenderà da quello che decideranno a Roma o a Bruxelles. O quantomeno non dipenderà solo da quello che decideranno a Roma o a Bruxelles. Dipenderà anche da quello che noi metteremo in campo. In questi dieci anni sono stati i pugliesi a dare un'immagine diversa della Puglia. Abbiamo una voce in capitolo adesso. Siamo più responsabili del nostro destino. Abbiamo incominciato finalmente a smettere di piangerci addosso. Abbiamo incominciato a fare. E' quella Puglia che sta facendo, che sta provando gusto a fare, che vorrei rivolgermi. Questo dunque si può dire essere frutto del governo Vendola. Diciamo dovrebbe essere un governo in continuità o cambiamento è la prima parola? Io penso che se tutto questo è accaduto è frutto di una miscela con due fattori. Il primo è che i pugliesi sono in gamba. E' una regione, un tessuto dinamico, vitale, riattivo. Che risponde alle sollecitazioni e se vive un tempo in cui tutto entra in gioco, tutto cambia. E invece che paralizzarsi dalla paura, invece che guardarsi indietro, sta provando a capire cosa fare per andare avanti. Quindi abbiamo di fronte una Puglia vitale, dinamica, che sta raccogliendo il guanto della sfida. E dall'altra parte ci sono state anche buone politiche pubbliche. La regione ha fatto la sua parte. Direi che ha messo in campo politiche che hanno moltiplicato le opportunità per coloro che volevano fare. La Puglia è diventata questa terra qui, in cui si sta diventando senso comune. L'idea che se vuoi fare qualcosa qui si può fare. Siamo vissuti a lungo con la convinzione che qui non si potesse fare nulla. Che eravamo più o meno tutti quanti nati nel posto sbagliato. E bisognava guardare altrove per realizzare i propri sogni. La Puglia sta diventando invece una terra nella quale molte cose possono accadere. Detto questo, bisogna cambiare il cambiamento. Nei prossimi cinque anni dobbiamo provare a fare quello che non si è fatto in questi dieci anni. E sono diverse le cose. Molte cose sono cambiate in senso positivo. Ma molte altre possono ancora essere fatte molto meglio. E fatte molto più incisivamente rispetto ai prossimi cinque anni. Penso per esempio sul terreno dello sviluppo. Per riprendere il chiodo sul quale io sto provando a concentrare tutte le mie attenzioni. Negli scorsi dieci anni abbiamo interloquito molto frequentemente con le grandi presenze industriali della nostra regione. Penso alla Getrag, alla Bosch. Ma abbiamo parlato anche a lungo di Ilva, con l'Eni, con l'Enel. E forse abbiamo un po' trascurato il 90% del tessuto imprenditoriale pugliese che è fatto di piccole e medie imprese. E io nei prossimi cinque immagino politiche orientate proprio ad accompagnare questo tessuto pulviscolare che fa la Puglia vitale, quella della base imprenditoriale pugliese, per accompagnare i processi di crescita attraverso le due leve che sono l'innovazione e l'internazionalizzazione. L'idea che bisogna raccogliere, il guanto anche qui della sfida del cambiamento, fare cose nuove in modo nuovo e guardare al mondo come mercato. Prendere questo 90% del nostro tessuto di piccole e medie imprese e portarlo verso il futuro è una bella sfida. Le piccole imprese, le piccole aziende che fanno imprese. Esatto, in questo senso bisogna fare qualcosa in più rispetto a quello che è stato fatto negli anni scorsi. Nei giorni scorsi l'inaugurazione a Bari del suo quartier generale l'ha chiamato Nodo Zero. Che significa? Perché? Perché stiamo immaginando questo lavoro distribuito su tutta la Puglia come una sorta di rete dal basso, di cittadini che si attivano. La nostra scommessa è che ci sia una Puglia che vuole fare piuttosto che piangersi addosso. Quindi cittadini che nonostante le difficoltà provano a fare delle cose. E così stanno nascendo sulla voglia di protagonismo di tanti cittadini spontanei, stanno nascendo tanti nodi in giro per la Puglia, tanti comitati. E questo sta determinando la tessitura di una rete del cambiamento. I pugliesi che vogliono continuare a cambiare, e che vogliono continuare a cambiare fuori dai due contenitori. Le primarie sono belle perché non sono un'esibizione muscolare tra partiti, sono uno strumento democratico, forse uno dei pochi che c'è rimasto. Perfetto, in cui i cittadini possono esprimere il loro protagonismo incidendo sulla decisione, perché il baro delle primarie è che decidono i cittadini. E quindi il nodo zero di via Putignani di Bari è uno spazio attraverso il quale proviamo a tenere le fila di questa grande rete che si sta tessendo in tutta la Puglia. E la cosa molto bella è che è uno spazio in cui giovani talenti pugliesi hanno messo a frutto le loro abilità, le loro competenze, totalmente autocostruito. Un po' l'idea di Puglia che vogliamo rappresentare. Lì poi punta molto sui giovani. Tra l'altro tra i punti cruciali, quello dei 1000 euro al mese per 5000 pugliesi impegnati per tre anni nella cura, valorizzazione del territorio, in che senso? Ecco, allora abbiamo detto sviluppo delle piccole e medie imprese, lavoro. Sul tema del lavoro ci siamo detti che cosa si può fare per dare una risposta immediata qui e ora a quel 53% di disoccupazione giovanile che è una delle piaghe, diciamo, che ha raggiunto una punta insopportabile, no? E ci siamo detti abbiamo un sacco di problemi ambientali. La Puglia è un territorio fragile, ulcerato da ferite profonde. Gargano nel mese di settembre ci ha dimostrato quanto il nostro tessuto ambientale sia fragile, no? E allora ci siamo detti come possiamo incrociare questo capitale umano sottoutilizzato che sono i disoccupati. E dall'altra parte questo bisogno di una cura straordinaria, no? Dell'ambiente pugliese. E c'è emersa appunto l'idea di un piano straordinario per l'accudimento della Puglia, del territorio pugliese, per prenderci cura della Puglia. 300 cantieri per 5.000 disoccupati che a 1.000 euro al mese per tre anni si prendono cura della Puglia, puliscono i letti dei fiumi, gli alvei appunto dei torrenti, le lame, i boschi. Si prendono cura per esempio dei nostri parchi archeologici, dei nostri beni culturali, degli archivi delle biblioteche comunali. Insomma un grande piano Marshall per attraverso un intervento pubblico mettere in sicurezza il nostro territorio e rispolverare le bellezze con le quali alimentare anche un turismo che è diventato un pezzo importante del futuro economico della Puglia. L'intenzione è quasi bissare il successo di uno delle sue creature come bollenti spiriti? Esattamente questo, l'idea è appunto moltiplicare le opportunità. A me piacerebbe che tra cinque anni nel senso comune la Puglia venga percepita come una regione degli opportunità in cui cioè a tutti coloro che vogliono fare delle cose siano date le opportunità per realizzarlo e per realizzarlo, indipendentemente dal punto di partenza, non ti chiedono più di chi sei figlio o a chi appartieni ma quale idee hai, quale voglia di fare hai. Se riusciamo a diventare questo vuol dire che abbiamo lasciato alle nostre spalle un pezzo pesante del passato più insopportabile e stiamo guardando finalmente verso il futuro. Tra l'altro il nome che ha dato al Sotur, alla sua campagna elettorale è Forza della Puglia Tour, un'espressione che sintetizza alla fine quello che gli interessa. L'idea è proprio questa, che per vincere le sfide che ci stanno dinanzi, diciamo, in questo momento difficile non si possa più assumere un atteggiamento di delega verso il Presidente o verso un'istituzione. Non basta più l'unto del Signore, l'uomo solo al comando. Serve la forza di un popolo, la forza di tante persone che sentono che in un tempo come questo invece che delegare, invece che recriminare, invece che sedersi passivamente ed esigere, attendere che tutto accada si rendano protagonisti attivi. Dicono, io voglio fare questo, io mi assumo la responsabilità di fare la raccolta differenziata, di essere io il primo promotore della mia condizione di benessere e di salute, quindi un pezzo delle politiche della sanità. Voglio attivare nuove forme di impresa, voglio fare cittadinanza attiva per la cura di un bene pubblico. Ecco, i pugliesi che fanno sono i primi attori della Puglia che verranno. Lei dice che il nostro territorio è pronta a questa sfida. È una bella scommessa. Io ho visto crescere una cultura della responsabilità, no? E questa idea per cui prima che recriminare bisogna impegnarsi. Soprattutto penso che di questa nuova cultura i primi protagonisti sono proprio i giovani. E questa è una generazione che viene senza nessuna garanzia rispetto al futuro. Noi ne abbiamo avute tante quando avevamo 25 anni. Questi giovani invece non ne hanno alcuna. Devono riscoprirle. E quindi sono più disposti a mettersi in gioco, buttarsi nella mischia anche delle sfide. E per questo io penso che proprio loro possono diventare proprio la riete. La mia proposta è rivolta prevalentemente a loro perché possono trascinare anche l'inerzia di quelli che hanno paura di cambiare. Questo è il tempo in cui non bisogna rassegnarsi, diciamo, pigramente a quello che abbiamo, ma bisogna osare rispetto a quello che non abbiamo. Non farsi travolgere dagli eventi, insomma. Nelle città che ha toccato all'interno, nell'ambito del Soturro, ancora all'inizio ovviamente, c'è una lunga strada da percorrere in vista delle primarie. C'è già qualche realtà che ha necessità, ha delle emergenze importanti? Ma io, andando in giro per la Puglia, sto provando a declinare questo ragionamento che vale per tutti, regionale, nell'ambito dei singoli territori. Perché la Puglia è le Puglie, no? Questa pluralità, questa articolazione di territori, che nel corso di questi anni, di fronte alla domanda su che cosa si potesse fare, sta facendo emergere vocazioni territoriali, no? Il subappennino d'Auno in questo momento sta in qualche modo chiedendosi che tipo di, per esempio, di agricoltura e di turismo, a partire da quella condizione di marginalità, si può al contrario sviluppare. Tra qualche giorno faremo una riflessione sulla Conca Barese, no? La zona dove si è sviluppata la meccanica di precisione, dove c'è una filiera dell'agroalimentare, dove c'è un terziario avanzato, no? Che cosa può diventare nei prossimi cinque anni per la Puglia? Così fino all'area Ionica, no? Tutta la crisi dell'Ilva e la domanda che Taranto sta ponendo di ripensarsi oltre l'Ilva con le bellezze di quel territorio e allo stesso tempo con le potenzialità infrastrutturali dell'aeroporto di Grottaglia e così via. Diciamo che Taranto non è solo l'Ilva. Non è solo l'Ilva e la città di Taranto sta rivendicando il diritto a pensare a un destino diverso dall'Ilva o non solo schiacciato sull'Ilva. Ecco, allora, il lavoro che stiamo provando a fare è di mettere insieme queste vocazioni, è come se ogni singolo territorio dica qual è l'apporto con il quale vuol contribuire alla costruzione di una nuova idea di Puglia, no? Dentro questa Puglia dinamica è come se ciascuno vuol portare del suo. Questo è molto bello. Io vorrei chiudere questo giro provando a stendere il programma con le cose, con i progetti che si possono realizzare dando il nome di una vocazione territorio per territorio. Tra l'altro, ho notato... Così nessuno si sente escluso. Chi è all'interno, nell'ambito dei suoi incontri in giro per la Puglia non è solo un monologo del programma elettorale, ma a lei si serve delle testimonianze dirette di chi partecipa proprio per fare incetta di queste emergenze ed eventualmente, possibilmente, risolverle. Assolutamente sì, è proprio duplice il messaggio. Da un lato la politica è che si mette in ascolto, che non parla con saccenteria, essendo convinta che tanto nulla di interessante può venire fuori dai cittadini. Invece io sono convinto che i cittadini sono protagonisti, titolari di contributi interessanti, di conoscenze molto belle. E dall'altra parte ascoltare le storie dei cittadini che stanno facendo, storie non sempre positive, storie anche di difficoltà, di sconfitte, di cadute. E serve a capire quali sono i punti di leva, quali sono le risorse sulle quali noi dobbiamo fare degli investimenti. Ogni volta si sentono appunto imprenditori che ce la fanno, oppure cittadini che di fronte al rapporto con le istituzioni, con la sanità per esempio incontrano tante difficoltà. Fare questo carico serve a capire qual è la direttrice di lavoro. E io penso che la direttrice di lavoro è quella che dicevo poco fa, e cioè che dobbiamo radicare dentro questo pezzo di sud la voglia di fare. Ce la facciamo solo se tutti insieme ci assumiamo la responsabilità. Direi che alla fine è il messaggio politico, un messaggio di fiducia. Possiamo farcela ma solo se ci assumiamo ciascuno la propria responsabilità e se lo facciamo insieme. Nell'ambito del governo Vendola, lei ha sempre occupato dei ruoli importanti, ha sempre avuto delle deleghe importanti. Al di là cittadinanza attiva, trasparenza, a un certo punto c'è stata anche la delega ai trasporti e alle infrastrutture, adesso nuovamente quella le politiche giovanili, cittadinanza attiva, con in più la giunta della protezione civile. Tra l'altro l'abbiamo vista impegnato sul campo in prima fila durante i brutti eventi del Gargano dell'alluvione. Prima di entrare magari nel merito di quello che è stata la tragedia del Gargano, come si è sentito? Questa è una domanda che gli avrei voluto fare da tempo. Alle accuse del Movimento 5 Stelle, mi permetta di chiederlo, quando l'hanno accusata erroneamente, senza testimonianza alcuna, ulteriore, di assenteismo. Che cosa ha provato? Cosa si è sentito in quel momento? Ho avvertito un senso di fastidio, diciamo, sul fastidio per lo scadimento della politica. Quando la politica diventa barbarie, quando diventa fango, un modo cioè per ferire le persone, piuttosto che per mettere in discussione l'attività, le cose che si fanno, dà sempre un brutto spettacolo. Il volto peggiore della politica è quello che colpisce le persone perché non sa cosa dire su quello che si fa. La cosa per la verità mi è scivolata addosso, perché io conosco il senso di dedizione profondo con il quale provo ad onorare gli impegni pubblici. Per me rivestire una responsabilità all'interno dell'istituzione è un impegno solenne. Vengo da una scuola, diciamo, che moralmente, diciamo... Quella di Don Tonino Bello. Non lo voglio citare in campagna elettorale, ho questo amonito proprio per rispetto nei suoi confronti, per lo straordinario rispetto nei suoi confronti. Ma insomma, quella scuola lì mi ha insegnato che non si bara quando si parla dinanzi alle persone, quando si assumono degli impegni pubblici. Io ho provato ogni giorno, anche quando la salute spesso spesso non me l'ha consentito, ho provato ogni giorno ad onorare i miei impegni, poter guardare i cittadini nei loro occhi sapendo che non averli mai traditi. Tra l'altro lei è stato il padre anche del bando sul riuso dei beni confiscati alla mafia. Informata. Benissimo, l'ho seguita nel suo percorso. Quello è un bando molto innovativo, l'unico in Italia, con il quale, proprio a fronte della difficoltà che molto spesso gli enti incontrano nel riutilizzare i beni confiscati dalla mafia, molto spesso sono assegnati agli enti ma per rimetterli in circolo, rifunzionalizzarli, c'è bisogno di investimenti che non sempre si riescono a fare. La regione si è messa accanto, ne abbiamo ristrutturati 14 ed è bellissimo perché si va dal Canile alle case famiglie per bambini e nel caso di Messagna e Torchiarolo abbiamo recentemente a Torchiarolo inaugurato una masseria didattica che era la casa, una villa lussuosissima del boss della zona e campi anche che oggi producono ottimo vino insomma abbiamo aiutato la comunità a riprendersi il suo sottraendolo dalle grinfie della criminalità organizzata e anche su questo sono molto contento di aver lavorato ancora una volta con le persone, con i cittadini, con gli enti locali ma nel caso per esempio dei beni confiscati soprattutto con Libera, con tanta cittadinanza attiva. Lei ha ricevuto anche nel 2000 e mi faccio i complimenti anche per questo perché l'ho trovato il premio nazionale Luciano Lama che è quel premio che viene conferito alle, tra virgolette, migliori amministrazioni stiamo parlando del periodo in cui era sindaco di Molfetta l'anno era dal 94 al 2000 lei è stato sindaco di Molfetta mi corregate se sbaglio non c'è bisogno di alcuna correzione preparatissima volevo sapere da lei come ha commentato come ha vissuto la vicenda la nota vicenda dell'inchiesta sui fondi del porto di Molfetta che lì ci fosse del torbido lo sostenevamo sul terreno del confronto politico da anni che tutta quella vicenda è nata male ed è stata trascinata peggio verso un epilogo catastrofico questo era politicamente evidente ovviamente ci sfuggivano i dettagli giudiziari che poi solo un'indagine penale può far venire fuori insomma nasce con 150 milioni all'incirca assegnati direi quasi in maniera discrezionale dal Parlamento nazionale direttamente al comune di Molfetta bypassando l'ente che è titolare del porto cioè la regione è la prima anomalia si fa una gara con una serie di specifiche tecniche che escludono la possibilità di partecipazione fino a restringerla ad una soltanto ad una sola offerta come è stato da più autorità da più istituzioni sottolineato fino a quell'epilogo che è stato evidenziato con l'indagine giudiziaria di tutta una serie di manomissioni di atti pubblici di silenzi rispetto alla situazione ambientale insomma è una brutta vicenda che un giorno sarà pure bene ricostruire ma dalla quale è difficilissimo ora venire fuori e solo con pazienza il comune di Molfetta finalmente in un lavoro di concerto costruttivo positivo con le istituzioni del territorio in modo particolare con la regione ma anche con l'autorità portuale pian piano sta provando a ricomporre e teniamo il filo di un ragionamento possibile e questo significherà sia la reintegrazione del comune di Molfetta all'interno del sistema portuale pugliese e sia l'affidamento della gestione di questa opera così importante nelle mani dell'autorità portuale del Levante che ha una robustezza amministrativa in grado di reggere la complessità di quell'opera c'era un organo che avrebbe potuto controllare prima che scoppiasse lo scandalo la regione Puglia ha una responsabilità lei mi ha detto che appunto è stato bypassato sono decine le lettere di diffida inviate dalla regione Puglia alle quali il comune di Molfetta ha omesso di rispondere fanno parte tutte quante della indagine e l'anomalia stava nel fatto che il comune era titolare del finanziamento non la regione questo consentiva al comune di esercitare diciamo una funzione arrogante nei confronti della regione perché un'eventuale attività della regione avrebbe potuto provocare la perdita del finanziamento e è tutto anomalo diciamo una storia una brutta storia se le chiedessero di tornare a essere il sindaco di Molfetta lo farebbe? io per consuetudine non mi guardo mai alle spalle preferisco guardare con curiosità quello che la vita riserva piuttosto che rimpiangere i bei tempi è stata una bellissima esperienza tra l'altro fatta giovanissimo perché quando sono diventato sindaco ho solo 33 anni ed era l'ultima cosa della mia vita che mi sarei immaginato potesse accadere ma non la rimpiango è stata una pagina importantissima diciamo decisiva della mia vita e mi piace raccontarla ma non vorrei riviverla torniamo alla luvione del Gargano secondo lei la situazione è stata gestita nel migliore dei modi in queste ore tra l'altro il governo Renzi finalmente dopo 45 giorni ha decretato ha dichiarato lo stato di emergenza riconoscendo un primo contributo di 10 milioni e mezzo che è solo un piccolissimo acconto rispetto ad un fabbisogno che abbiamo stimato superiore ai 300 milioni di euro per i danni complessivi sul territorio quindi speriamo che gli altri ci siano io devo dire di sì la risposta è assolutamente sì nel senso che in quella circostanza il territorio ha dato una prova di altissima efficacia ed efficienza il sistema della protezione civile ha funzionato con livelli molto elevati di competenza e di capacità organizzativa abbiamo gestito una situazione di straordinaria gravità estrema direi tra l'altro con le strutture ricettive ancora piene di turisti gli alberghi erano piene di persone che in primo piano non sapevano bene cosa fare e solo la perizia la competenza del dispositivo dai vigili del fuoco e del corpo forestale ma gli stessi volontari ha consentito di gestire tutta l'evacuazione con sostanzialmente un danno in termini di vite umane e assolutamente diciamo poteva andare molto peggio a giudicare da quello che è accaduto a Genova dove si è rischiata la catastrofe dove il sistema non ha funzionato direi che la prova la Puglia ha dato una prova eccellente del cammino svolto dalla protezione civile oggi è una realtà solida lo dico anche qui con un pizzico di orgoglio tra l'altro il Gargano riduce anche dall'incendio che colpì il Vieste Peschici qualche anno fa nel 2007 nel 2007 per questo spesso e volentieri anche gli stessi utenti i nostri telespettatori ci mandano mail per capire se è possibile piuttosto che intervenire dopo preventivamente agire ma come si può agire oggi per evitare che disastri catastrofi del genere possano verificarsi ancora allora ci sono delle cose nelle quali noi abbiamo compiuto un cammino enorme per esempio gli incendi no? nel 2007 segnò il punto di svolto l'incendio di Peschici no? segnò il punto di svolto non avevamo di fatto ancora un sistema di protezione civile quello fu un evento catastrofico che registrò la nostra impreparazione insomma accadde tutto spontaneamente in modo disordinato perché là erano tanti turisti era luglio pieno insomma rischiamo davvero la catastrofe e quell'evento ci fece capire che la protezione civile era una cosa seria a partire da quell'evento c'è stato il punto di svolta è il caso appunto che da una esperienza negativa nasca diciamo un percorso assolutamente costruttivo positivo da quel momento è nata la protezione civile e oggi per esempio in questa stagione estiva che si è chiusa segniamo un record assoluto in termini di riduzione degli incendi e di riduzione della superficie incendiata quindi significa che quello che dicevi un po' tu poco fa diciamo siamo passati da una capacità diciamo di gestione ad una capacità di prevenzione no? sugli incendi la Puglia ha fatto un percorso enorme no? detto questo la protezione civile significa avere a che fare con gli eventi con i rischi di un territorio che evolvono non sono mai stati in questi anni per esempio è emersa una nuova dimensione di rischio che fa parte proprio delle esperienze di queste ultime settimane per esempio gli eventi meteoclimatici sono diventati diciamo un fattore di grande apprensione di grande rischio per i nostri le lame stanno riprendendo con una certa frequenza riempirsi cosa che non accadeva appunto in alcuni casi da decenni in alcuni casi da secoli no? stiamo scoprendo che le lame servono dentro ci abbiamo messo tutto ci abbiamo messo ponti ferrovie palazzi capannoni no? adesso stiamo scoprendo che aver occluso di aver coperto questi canali attraverso i quali la natura ha scavato forme appunto di deflusso delle acque è un grande rischio per il nostro territorio ci siamo impegnati se vogliamo passare dalla capacità di gestione del rischio alla capacità di prevenzione dobbiamo ripensare un po' tutto e provare a ripulire il nostro territorio da tutti i tappi che con il cemento armato inopportunamento con un senso di incoscienza abbiamo impresso al nostro territorio e allora prendiamolo come nodo zero questo assolutamente sì è una delle grandi ecco per questo i 300 cantieri insomma torniamo alla fase di primaria siamo in chiusura davvero mancano solo due minuti alla fine del programma test delle primarie ha paura di brogli sa cosa mi riferisco considerando la situazione di Taranto alle province assolutamente sì ho paura di una forma di inquinamento certo temo che come al solito dall'esterno ci possano essere delle attività per selezionarsi il miglior candidato per questa ragione avevo lanciato anche la proposta di una forma di preiscrizione che potesse servire a regolamentare l'affluenza alle urne e purtroppo diciamo in modo particolare Michele Emiliano ma le forze del centro-sinistra non hanno inteso dare una regolamentazione alle primarie le primarie secondo me sono uno straordinario momento di partecipazione se evitassimo che diventino anche una forma inquinata attraverso la quale si incuniano interessi diversi sarebbero ancora più trasparenti spero che un codice d'onore diciamo tra di noi candidati anche in un scritto importante che ci sia una volta valevano le parole e allora grazie assessore grazie della sua presenza buon lavoro grazie a voi dell'opportunità e grazie ovviamente al pubblico a casa a cui rinnovo l'appuntamento alla prossima puntata di parliamone con a cui rinnovo a cui rinnovo città a cui rinnovo città a cui rinnovo città a cui rinnovo città